Un eroe per me è una persona, una persona capace di compiere un'impresa straordinaria, meravigliosamente umana, fallibile, mortale, con il cuore pieno di emozioni, la paura, il coraggio, la passione, l'ossessione. L'eroe è un uomo che si batte per ciò in cui crede e questa è la ragione per cui secondo me l'eroe di oggi è l'imprenditore, un imprenditeroe. Io sono un'imprenditrice, ho una società di consulenza strategica che arriva e indica la scelta di fare focus sulla persona e sul suo potere fortissimo di impattare sull'ambiente, sul mercato, sul mondo. Li accompagniamo, li accompagniamo in un percorso di consapevolezza della propria identità e del mercato che li circonda e dell'ambiente che cambia per poter liberare il proprio potenziale e trovare il proprio spazio in questo mercato e avere il loro successo. Mi occupo di immagini e suoni e credo che i nostri imprenditeroi meritino una grande visibilità. Con le loro parole possiamo conoscere le loro storie ma è il loro sguardo che ci parla dell'entusiasmo, della determinazione, della lucidità con cui tutti i giorni operano per realizzare il loro sogno imprenditoriale. E tutto questo è molto importante per costruire l'immagine migliore affinché questi uomini e queste donne siano conosciuti come eroi del nostro tempo. Grazie. 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 Grazie.